allora attenzione questo in questo video presente dello splatter quindi siete sensibili non guardate questo video detto ciò vi mostrerò come uccidere Malustorm senza combattere ma lo storm e i suoi seguaci è un chirurgo della morte del culto di charladea del male e se seguirete i miei dialoghi riuscirete a fare in modo che egli si uccida senza farvi neanche un danno apsis 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 Absenza. No altro modo capta il cuore di Shazzo molto perfettamente. È la scopo-lend journey che leado da pezzi a pezzi. Solo un uomo di un uomo giocava con la sua vittima. Intertanto, se non efficiente. C, che è la luce dei occhi, ma il canzio che fa uno a sentire la lacerazione del being. Se la luce è il sympto, la scopo è la cura. Perché nella luce c'è presenza, ma nella scopo è l'absenza. In la luce c'è presenza, nella scopo è l'absenza. Corte dei cori di farlo, ma il un nuovo uomo finisce il violone. Facciamo chi ha terminato. Perciò, vi tagliare il matto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. I must concede how to steady hands, I wonder. Yes, for hardly not all in need of a cure. The scalpel does not discriminate. Let each and every one of you take in its soothing journey. Absent sisters, acquaint yourselves. It is a proud moment when one sees one's teachings so lovingly taken to heart. You are to be commended for their graduation, rewarded with the promised cure. Come, I will acquaint you with the lady's dark finger-bill brace. I will acquaint you with the lady's dark finger-bill brace. Exemplary. Exemplary. Very well. Your own scalpel you will be. Observe. Then succeed me into the sucker of charm. And she will be. You are to be. She will be. You are to be. You are to be. Grazie mille, grazie mille.